E amici di chi balla e chi canta, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la musica da ballo e le grandi canzoni. Siamo l'ultimo giorno di questo agosto 2023, è possibile mettere edition 2023 estate, l'estate sta finendo, ma noi siamo ancora qui con tantissima bella musica, canzoni e soprattutto i vostri messaggi che giungono al 3 27 6 6 6 8 2 2 0. A proposito dei messaggi, io devo iniziare già subito a leggerne qualcuno, perché altrimenti mi tirate le orecchie. Allora, ecco qua, vorrei ascoltare una canzone di Elena Camarone, ciao Stefano, grazie per la compagnia che ci fai sempre, e volevo chiederti una canzone appunto di Elena Camarone, una qualsiasi, ci vediamo alla festa patronale di Mongeauvet Pierluigi da Latuille. E quindi io per Pierluigi della Latuille voglio dedicare una bellissima canzone a tutti anche gli amici di chi balla e chi canta, che sono qui incollati da lunedì al venerdì con questo bellissimo contenitore di musica da ballo, andiamo con chitarra romana in versione fisarmonica dal nostro amico Antonio Tanca. Antonio Tanca con chitarra romana, questo bellissimo brano musicale che apre e chiude, apre la puntata ma chiude questo mese di agosto di questa estate 2023. Noi ci stiamo preparando per una nuova edizione, quindi siamo veri ogni giorno alla ricerca di sfondi nuovi, soprattutto di studi, coreografie e scenografie nuove per creare e portare nelle vostre case una bella e nuova ricca stagione di chi balla e chi canta e non solo di altre programmazioni. Vuoi raccontarti? raccontarti, scrivici al 327-666-8220 perché in arrivo una nuova programmazione, un nuovo programma, tutto dedicato a voi e alle vostre storie. Allora io andrei gentilmente, se è possibile la nostra regia mi mette la schermata, ricordare che il 10, domenica 10 a Montjové, saremo presenti alla festa patronale, domenica 10 alle ore 21, quindi non mancate, l'orchestra e summer con tanto bel liscio, vi aspetta domenica 10 di settembre alla festa patronale. Allora io andrei, come vi dicevo prima, al 327-666-8220, mi dicono che c'è qualcosa che non va, siamo rientrati e nella camarrone, eccola qui, una grande richiesta, scusate per i problemi tecnici che abbiamo appena avuto, grande richiesta dal nostro amico della Tuil. Allora io andrei a leggere qualche altro messaggio che giunge al 327-666-8220, i nostri amici che ci scrivono, ma soprattutto io vado a leggere qui un messaggio che arriva da Ivrea e c'è la nostra amica Lella che ci scrive Ciao, vi seguo sempre, un grande abbraccio a tutti voi, ma soprattutto voglio ascoltare una canzone di Omar Lambertine e Mariana Lanteri. Allora andrei con questo duetto, se la nostra regia ce l'ha pronto, Le mie notti per Lella. Settimane di settembre perché il caldo ritornerà, qui anche almeno al nord è ritornato, sta ritornando, sta ritornando, dai. Allora andiamo con una bellissima canzone, è qui un fisarmonicista di alto livello accompagnato da un altro Walter, Walter Rosi con Walter, per voi questo bellissimo brano, questa bellissima interpretazione. Con 327-666-8220 mi fate sentire a casa vostra con questi bellissimi messaggi, cosa vi mettete? È la musica di Omar Lambertini per voi. Omar Lambertini, un bellissimo brano musicale, io intanto sto leggendo i vostri messaggi che giungono al 327-666-8220, ma voglio anche ricordare, se è possibile, se la regia me lo permette, un appuntamento molto importante come vi stavo ricordando all'inizio di questa puntata. A Montjové c'è la festa patronale che è in corso, vi aspetto, io domenica, come potete vedere, domenica 10 settembre, eccomi qua, se la regia me lo permette, domenica 10 settembre alle ore 21, qui c'è scritto alle 22, ma è la discoteca che partirà alle ore 22 con i coscritti, ma noi alle ore 21 vi aspettiamo con la serata danzante, ci sarà la mia orchestra, quindi non mancate domenica 10 settembre a Montjové, in occasione della festa patronale. Allora continuano le vostre richieste, i vostri messaggi, arriva Rita da Chatillon che ci scrive se potevamo fargli ascoltare una bellissima canzone Fammi girare di Anna Maria Allegretti, allora noi per la nostra amica Rita di Chatillon le dedichiamo questo brano musicale. Ritorna da me, la regia ritorna, ritorna perché il tempo è scaduto e dobbiamo salutare velocemente il nostro pubblico alla casa, io vi auguro un buon proseguo sulle reti, appunto su Rete7 e Video Nord, vi lascio con informazioni di Rete7 e Video Nord e con la musica vi do l'appuntamento domani con chi balla e chi canta domani. Perché chi balla, chi balla, perché chi balla resta in forma, in forma, la giovinezza gli torna e trova la felicità, la giovinezza gli torna e trova la felicità, chi balla.